Francometta non molla, il leader del movimento politico La Cicogna lo ha detto chiaramente nella riunione di martedì sera ai suoi elettori a commento delle votazioni in reddi il primo turno delle amministrative a Cerignola che ha visto il vantaggio del candidato sindaco del centro-sinistra. Lo stesso avvocato ha posto in essere la sua strategia in questi 11 giorni che lo dividono dall'ultimo, quello del 14 giugno, e ha detto si riparte da 0 a 0. Adesso bisogna fare tutto il possibile e dare anche l'anima per cercare di dare alla città il volto del cambiamento.